Ok Allora gennare il momento Con il gennare con cosa vogliamo startare L'oggetto dei soldi ci serve l'oggetto dei soldi Ma in realtà non più di tanto Non ce ne frego un cazzo Tanto passeremo tutto a fa Oddio potevo anche buildarmelo Tanto siamo in iron però ho detto Questo mi da più sostenere manco più tempo in lane E' meglio ma non cambiava molto In realtà sarò onesto Come si gioca contro Yorick Boh vediamo adesso L'importante è dodgiare la E Se tu gli dodgi la E è molto più forte Cioè nel senso tu sei molto più forte Lui è molto più debole E poi diciamo che Phase rushing to conqueror non è il massimo Contro Yorick Per quanto mi riguarda C'è un po' di ignite Eh beh Sai no Loro sono dei campioni che hanno assolutamente 5000 di range Chissà quanti ignite metteranno Federico quando era 4 Io vi giuro Io vi giuro esplodo Io vi giuro esplodo Mi metto una cintura di quelle E poi boom faccio Boom faccio Faccio boom Capito? Faccio boom Posso dire in altri modi Però avete capito In game in game Certo Compro la cintura razzo E mi faccio E l'attivo Rocket belt e l'attivo Quindi come si gioca contro Yorick Beh per adesso non c'è molto da vedere Ovviamente Vuole lasciare il livello 2 Che prenderà adesso E mi ha missato Ecco Vedete Se lui non citta di E Siamo più che a posto noi Zacc 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 Ok Lo abbiamo fatto flashare Allora adesso Dobbiamo soltanto sperare Che i nostri aliati Facciano Bel body block Facciano abbastanza schifo Per far durare la partita Una discreta quantità di tempo Quindi speriamo Siano tipo Come quelli di prima Ecco qua E si passa E si passa Ovviamente è ancora presto Per shottare la wave Però Back Ha senso? No non ha senso andare back adesso Ah e vai Perdi pure il vino sotto torre Se ti fa piacere Quello sta Già morendo il bro Eh purtroppo Facciamo troppa fatica Adesso Chi è che mi sta pingando Che cazzo me ne frega Ma Ok Ok Benissimo Ma chi cazzo è che Continua a pingarmi? Ok Ma quanto pinga Sto tizio Ecco Facciamogli capire Chi cazzo comanda Stai zitto Idiota Din 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 Guarda quanti ping Soltanto per dirmi di scappare Mentre stavo scappando Cioè pensate voi Non per avvertire Proprio mi pingava Mentre erano lì Che stavo scappando Mi pingava lui Cioè bo Din 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 Ecco Ora che ci abbiamo questa È tutta più facile La pushata Guarda qua che roba Amma mia Senna What the fuck Sai che cazzo ho combinato Sa se tipo adesso Inizia a pingarmi Perché non capisce Perché io sia qui E quindi Din 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 Domino pizza Si chiama Cosa c'è Possiamo aspettare Da domino pizza Pinga Non sa cosa sta succedendo Quindi giustamente Pinga E si corre E si corre Oh basta Oh basta No Glielo stava per rubare Se gliel'avesse rubato Ridevo tantissimo Se gliel'avesse rubato Con quelli Ragazzi Morivo da ridere Porca Tra quanto ridevo Via Chi c'è qua C'è nessuno C'è nessuno Non gli ha fatto Alcun danno Tutti due Col ghost Che corriamo Garen F*** Ecco qua Mi fa troppo ridere Sto Idiot players Lui parcheggiato Nella giungla Di mica a caso Non sa neanche Cosa sta facendo Io che ho fatto Io che ho dato 50 milo Al top 1 All'avversario E lui Ah noob Player C'è che poi Io posso sapere Da in del noob Un tizio sta perdendo Ma io sto vincendo Non capisco Perché ce l'abbia con me E' proprio Incomprensibile Per me Il suo odio Nei miei confronti C'è gli sta sul cazzo Che proxo Gli sta sul cazzo Io faccio così Prendo la wave Lui non va bene Non devo farlo Boh Perché Sì guarda Lui deve stare qui con me Per qualche motivo A me non gli ho chiesto Di venire qui Mio Grazie Sì questo c'è un bel da lamentare Se parcheggiati in top land Di continuo Non so fare cose È andato un po' male Pensavo di non taccarmi La torre così Vabbè Via E si corre E ora sono morto Invece no Ok Ora lo segui More e mi flamma Speriamo vada così Che mi faccia due risate No niente No niente È sempre top Sto tizio comunque È sempre Solo top Perché la dichiari In top lane ragazzi Io non so Cosa sto vedendo Ragazzi In sto game Io non Ma mi dite Dove è arrivato La dichiari Perché sono Tutti Non capisco Ragazzi Non capisco Ragazzi Qua sta succedendo In sta partita È proprio Il circo Massimo Questo Il circo Più assoluto Rendono il game Emozionale Ma è per questo Che giochiamo In iron ragazzi È per questo Che si gioca In iron Cioè Ditemi Che non è Emozionante Sta partita Non puoi mai Sapere Cosa Non puoi mai Aspettarti Nulla È tutto Così Randomico Tutto bene Mister Jackie Guarda Feeding Is Carry Ah guarda Ecco qua Io ho body bloccato Da tutti i minion Minchia Prendimi da più lontano Pingano 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 Di continuo Non l'ho manco Ah ma c'è la taglia Questo What Ah ok Come Che ne ragazzi Sono dei planet più stupidi Che ho mai visto Ok ora siamo velocissimi Ora siamo velocissimi La botta è la doppia ignite Ragazzi Non ho idea del perché Non lo so C'ha 40 C'ha meno farm Varus Di Di Yorick E si pusha Tic Ecco qua Tic Tac De Macha È flashato troppo tardi Ormai Il collegamento Internet Era già partito Lo sappiamo bene Come funziona Ulti di Garen Se ormai Se parte Il collegamento Poi è un attimo Se parte Il collegamento È finita Siamo attaccati Al wifi Rubiamo Gennaren è partito Gennaren è partito E chi lo ferma più adesso E quando parte Gennaren Chi lo ferma più adesso Gianpietro Ti saluto Fieri Che buona potente degustazione Grazie Jackie Grazie Re Sab Bello Molto gentile Buona degustazione A te Oh Questi mi aiutano Ad aumentare Il farm Molto bene Ok Ah ma è il support Questo Va bene Pure Pure Quanta gente c'è qui In Toplin Pure Lux Andiamo alla Ravenous Andiamo via Che sono tutti in Toplin Quanto in edificio Questo pick È vero È vero Il pick di Pasqua Ci rende tutti felici Il Gennaren Tutti felici Guardate quanto Buon speed Che abbiamo Perfetto Anzi rubiamo a Kayn Rubiamo a Kayn Presto Herald Herald free Con Motherfucker Per gli oggetti Ma sta parlando Con noi O con i suoi teammates Genare Ne ruba tutti Non fa distinzione Oh Presto In Toplin Presto Presto Anche a me Non sa Secondo me Non sa di essere In all chat Ma sapete quanta gente Scrive in all chat Parlando con i propri compagni Ne sono capitati a miliardi Ok Questa Lux Sarà gigatiltata Quindi ne sono Molto contento Però forse È un po' esagerato Perché adesso C'è caso che sorrendino Non lo so Cioè è più facile Che sorrendino A sta torre ci serve Sì Cosa sta accadendo qua? Ma c'hanno degli alleati In pericolo Oh no Oh no Mannagina Degli alleati In pericolo Se solo me ne fossi Accorto prima Dov'ha questo Gennare Inchilla tutti Gennare Inchilla tutti Ma è un problema Sto killando Troppa gente Presto Presto I minion I minion Ok Rubati Rubati Presto Correte Back Yomo Così siamo ancora più veloci Rubiamo la giungla Kade E torniamo in top Corri Corri Rubare Rubare Abbiamo un sacco di moving speed Ragazzi Ora abbiamo un sacco di moving speed Midline C'hanno dei minion Bene Oh bene Killing speed Bene 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 Presto 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 Che bello Usare Gennare Ne rubare Qualsiasi cosa Presto Dove sono i lupi Dove sono i lupi Vuole rubare lui Non si ruba Gennaren Non si ruba Gennaren Polizia Polizia Stanno rubando Come ti permetti Rubare Gennaren Farma Varus Farma pure Fai fai Tutto tuo Vai Varus Prendili Varus Vai combatti Varus Ma chi è tutta sta gente Perché sono tutti in top lane Vabbè Andiamo a rubare questi Presto Siamo cinque lì Lì sopra Zium 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 Oh qua sono quelli Tutti questi Bellastit Ma vedi te Che bellastit Ma guarda te Che bellastit Che ci stanno qua Dove siete Dove No Via Scappare Scappare Looks che mi insegue No no Troppa gente Ma come si rubano i minion a vicenda Presto Compriamo un altro oggetto Che ci aiuterà tantissimo In questa run Un altro oggetto Di tanta moving speed Eccolo Siamo ancora più veloci Guardate quanto moving speed abbiamo 512 di base Ottimo Ottimo Presto Rubiamo tutto Rubiamo tutto Presto Via tutta la giungla Che cazzo ragazzi Gennarine è un pick molto pazzo comunque Va detto questo Va riconosciuto Top 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 Quanto siamo 273 million Vai vai Zero assist Questo è molto onorevole Da parte nostra Ok Ecco fatto Bene bene Eh la Yomo aiuta tantissimo Comunque La Yomo aiuta tantissimo A velocizzare Lux non ti ucciderò Fammi passare Ok Perfetto Permesso Permesso Ole Bene Bene Che sorrende Ma siete pazzi? Siete pazzi eh? Presto ci stanno i pappagalli Bot 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 Cazzo Questo ci caga il cazzo Purtroppo È l'unico che ci rompe i coglioni Ce la possono fare I minion Sai dire che provino a tirare gli spell Ha provato a jumpare oltre per rubarmelo ma Missione fallita Presto Via da qui Via 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 Presto Guarda il farm Guarda il farm Cazzo Focus Focus farm Focus sul farm ragazzi Ok Ora dobbiamo rubare anche un po' di nostra di giungla Non si può rubare soltanto quella dei nemici Ovviamente Per par condicio Ken senza foe Ma sto Ken ragazzi è un disastro È un disastro assoluto Back Abbiamo la Shojin Ora si inizia a spammare sul serio Guardate che velocità Presto Verso il farm Ecco la Shojin Ecco la Shojin Ora spammiamo tanto La Q La Shojin ci aiuta un sacco Perché? Perché con tutta Stability Ace Possiamo spammare la Q Quindi siamo più veloci Quindi GG Guarda qua che meraviglia Vai Gennarin Corri Corri Farma tutto Corri Farma tutto Come va ragazzi Tutto bene A posto For Demacia Quanto sono veloce Presto Presto Devo andare in base Prima che spawnino i minion Che stanno spawnando adesso Ok Oh Mi sono fatto prendere qua Via Un bacio da questi Non escono Manco a vedermi Che entro Esco alla loro base Per quanto sono veloce Oddio San Via I miei amici Di anche su Mai li sto ignorando Infatti Guarda mi stanno sparando Di tutto addosso Mi stanno sparando Di tutto addosso Ragazzi Corri 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 Guarda come mi inseguono Ah Presto, presto Ci provano in tutti i modi Ci provano in tutti i modi ragazzi Non c'è niente da fare Ah no, quelli non sono minion Dovebbero esserci dei minion qua Eccoli Ma il fatto che provino a colpirmi Mi fa troppo ridere ragazzi Perché è stupidissima come cosa Bot, bot, guarda quanti minion Una warm, c'è già la passiva E poi al posto di cosa la metto Sono tutti oggetti che mi danno Movement speed o simili La warmlock non mi aiuta in nessun modo Poi Garen è una warmlock vivente Quindi Minchia, lo doggiate se me la stessi scriptando Che build sarebbe? La build di Gennaren E la build full movement speed Full pushare Qua non c'è niente E dai Dove sono i... Dai, questi sono sempre Vai, non li fa mai nessuno questi Per qualche motivo Quanto siamo, quanto siamo Quasi Siamo verso i 500 ragazzi Ok Dovrebbero spawnare a brevi minion No, questo non lo faccio Ok Ok Guarda, mi vogliono a tutti i costi ragazzi Gennaren fa incazzare tutti Gennaren fa incazzare tutti Oh ma top Oddio Quanti ping che ci sono Ma che gioca senza form? Garen play in team No Gennaren non gioca di team Presto, presto, presto Presto cosa possiamo farmare? La botlin Presto Presto, presto I pappagalli Oh, la mid lane prima La mid lane Presto Vai, 500 minion Li abbiamo fatti Idiot zero Bene, per te No, li prendo io questi Mi hai A posto Chissà cosa pensano In tanti miei nemici Che vedono questa cosa Che gira di continuo Mamma mia Quanto vorrei essere Tipo nelle loro teste In questo momento Per sapere cosa pensano Vi giuro Impazzerei No, Senna ha rubato tutto Senna ha rubato tutto Pot, pot, pot Pot Presto Per sapere cosa pensano Che Per sapere cosa pensano Per sapere cosa pensano Nel frattempo il sorrende. PRESTOOOOO! PRESTOOOO! Non sono altri, io sarei tipo livello 25 in questo momento, se si superasse il 18. Oh, ma questa... Via! Minion! Oh mio Dio ragazzi! Quanto mi vogliono! Via, via, via! Lui ha capito che deve tipo anticiparmi se vuole prendermi. Eh! Guardalo come mi vuole sto tizio, incredibile! Ahahahahahahahahahahahahahahahah Guarda Kim come è arrabbiato senza la forma! Non sa neanche cosa sia il suo campione! Idiot Zero! Ma che fa questa? Perché si è tippata? No no, quello non si fa. Mettiamo due colpetti, ma... Si dimostravo di non essere minacciosi, magari non vengono a disturbarmi. C'è una wave, c'è una wave che sta scappando! Capo, scappa! Sta scappando, capo! Ok, va bene così. Gara è New Noob Zero. Vabbè. Grazie per me l'ho detto. Come farò adesso? Dove sono i mostri?! Un enemigo ha stato scappato. Loro pensi di andare di là e io lo devi qua. Ciao! Oh! Via! Ma il fatto che provo di seguirmi è troppo divertente. Via! Ok. Guarda come ci provano tutti! Tutti! Vai Vukong è il tuo turno, bravo! Presto! Presto! Ma come vuole rubare! Vuole rubare a Gennaren? Eh? Vuole rubare a Gennaren? Questo ti meriti! Questo ti meriti per aver provato a rubare a Gennaren! Questo! Questo Gennaren può superare il record del Gennaren originale, ragazzi! Ve lo sento! Siamo vicino al record! 6! B, 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 B! Io vorrei essere nella testa di questo Genn, ragazzi! Sono troppo curioso! Cioè io non... Non vorrei sapere il suo... Il suo quotiente intellettivo! Gennaren, fuck you zero! Ok! La Nintendo Switch con lo scaffo! Siamo quasi, ragazzi! 16-0-0! Gennaro! Grazie Duffcent per i 12 mesi! Due mesi, scusami! Grazie mille del sub! Bello! Si sta incastrando la barra spaziatrice! Ok! È il record? Ho 10.000 gold! Eh, mi sa che rimarranno lì, ragazzi! Sì! 6-6-6 per forza! Non ho fatto il Baron! Questo rompe un po' le palle, però... Va bene lo stesso, dai! Eh! Sparito! Gioric 1-10! Posso dare un po' di soldi ai miei alleati, così! Ok, dai! Un po' più lento farmare la wave, ma... Si può comunque fare! Si può fare, si può fare! Quel tizio fa male, comunque! Eh, vorrei anche vedere, insomma! Oh! Presto, la wave! Presto! Eh! 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 Ok! Gare in zero! Vediamo se me lo scrive! Tanto Diana continua a spampingarlo! Ho preso anche la soul del drago! Rischiamo veramente di perdere sta partita, però... Oddio, ma questi... Cioè, non mi sentirei in colpa perché nessuno dei miei alleati merita di vincere, sapete com'è! Sono morti tutti e non... Vabbè! 712 minion! Va bene! Va bene! E niente! Eh! Gare in noob! Vedi! Cioè, noi siamo impegnati al massimo per vincere, ma... Va bene, ragazzi! Va bene! E... Domino Pizza... Non il miglior game player del mondo! Interessante, comunque, questa partita! Interessante, soprattutto... Il grafico dei danni ci racconta tante cose! Report Mluks! Worst game ever, why didn't you finish Garen? Ecco! Facciamo finta che sia questo il motivo che sembra un po' più religioso rispetto a... Eh... Rispetto a... Il fatto che... Stavo facendo un record di minion! E giusti, danni totali! Vediamo un po'... Ah! 742 mila danni! Benissimo! Una menina. Grazie.